Eccellenza, si apre oggi il nuovo anno pastorale. Quali sono i punti fondamentali che la Dioce si dovrà affrontare? I punti fondamentali che la Dioce si dovrà affrontare è certamente quello dell'evangelizzazione, perché il Vangelo è sempre parola di Dio che evangelizza, vuol dire questa lieta novella che noi siamo chiamati a portare a tutti. In questa evangelizzazione, in questo annuncio, credo che punti fondamentali ancora una volta siano l'ascolto dell'intero popolo di Dio, così come è emerso dall'ascolto sinodale, e certamente per tutti un cammino di formazione. Ecco, noi viviamo la formazione permanente per i nostri presbiteri, però penso che un cammino di formazione permanente sia per l'intero popolo di Dio. Il tutto per prepararsi al giubileo del 2025? Sì, non solo per prepararsi al giubileo del 2025, ma soprattutto perché questa evangelizzazione, questa nuova evangelizzazione, come amava dire Giovanni Paolo II, nuova anche nel linguaggio, nuova nelle modalità, come ci esorta anche Papa Francesco, perché questo ascolto sinodale, perché queste esigenze di formazione, certamente non sono in vista del giubileo, ma credo che debbano diventare lo stile della Chiesa. Posso chiederle, nuova evangelizzazione, quali saranno i metodi di questa nuova evangelizzazione? Mi incuriosisce. Certo, i metodi, i mezzi, le strade per l'evangelizzazione sono certamente strade nuove da percorrere. Io credo che la nuova evangelizzazione, quando parliamo di nuova evangelizzazione, ripeto, è un termine che risale a Giovanni Paolo II, stia ad indicare il nostro tentativo, la nostra capacità di annunciare questa lieta novella, questo Vangelo con linguaggi nuovi. E questi linguaggi nuovi nell'isola di Ischia sono certamente, io l'ho detto tante volte e amo ripeterle, proprio questa nostra capacità, la capacità di tutta la Chiesa, dei presbiteri con i laici, dei presbiteri con l'intero popolo di Dio, di essere prossimi a ciascuno. Ecco, credo che si possa veramente partire da qui. La passione per l'annuncio evangelico diventa passione per la persona e questa passione per la persona credo che sia la nostra capacità di chinarci sulle attese dell'uomo e della donna di oggi.